ciao a tutti io sono Lily Gray Simmer ed eccoci qui in un nuovo episodio di The Sims 4 cani e gatti ovvero le avventure di Bonnie e Michael oggi purtroppo sarà l'ultimo episodio di questa serie poiché appunto ragazzi come avevo già detto faremo nascere il bambino lo faremo passare subito a bebè quindi oggi vedremo la nostra cara Bonnie partorire la vedremo andare finalmente in ospedale perché ho scaricato l'espansione al lavoro e porremo fine a questa serie che ragazzi è stato davvero un piacere presentarvela il problema è nato dal fatto che non avendo più ispirazione per questa serie e non vedendo tante visualizzazioni ho deciso un po di accantonarla quindi sto dando spazio maggiormente alla serie principale che riprenderà tra poco e alla nuova challenge che subentrerà all'interno del canale quindi vi sto dicendo questo anche per ringraziare coloro che hanno votato per vedere appunto l'episodio di Bonnie e Michael in maggioranza ovviamente è uscito un episodio con uscito l'episodio con Bonnie e Michael e ho deciso di farlo e quindi di finirla e di finire la serie qui quindi intanto vediamo un Michael vestito in abiti molto eleganti diciamo molto eleganti questo perché mentre giocavo senza registrare lui ha ottenuto la promozione se non erro ve la faccio vedere subito una promozione a coordinatore di pubblica relazioni infatti è arrivato al livello 4 e tra l'altro sta puntando sta puntando ad una promozione infatti oggi al giorno libero e volevo farli raggiungere il livello 3 di scrittura infatti farei esercitare a scrivere mia è qui che gli fa compagnia è carinissima i piccolini sono qui che giocano vedete qui un po boni che pancione che ha guardatela è bellissima anzi quasi quasi le faccio una foto perché l'adoro troppo lei è sempre sempre felice qualunque cosa accada piace un sacco lei intanto se non erro è arrivata all'abilità aspettate un secondo all'abilità quasi set di veterinaria infatti sta portando davvero avanti questa clinica e sono contentissima e niente ragazzi siamo arrivati al terzo trimestre e quindi oggi faremo un po di cose diciamo qui in casa non vorrei farlo uscire anche perché ha avuto diciamo una gravidanza parecchio travagliata vomitava quasi sempre quindi l'unico momento di riposo che aveva era appunto questo tra l'altro qui c'è ancora valido il meno bisogni con jasmine holiday che per farvi capire da quanto tempo è che non gioco con loro due quindi niente il programma di oggi è aspettare la nascita ah vero mi sono ricordata adesso che ho fatto la stanza della futura bebè perché spero che sia femmina ovviamente perché ragazzi vi giuro se nascerà una femmina io sarò la ragazza più felice del mondo perché spero che prenda tutto dalla mamma e poi vedremo anche che ragazza nascerà ovviamente e la vedremo anche nella summer camp o high school challenge quindi non vedo l'ora poi ovviamente ho messo delle cose semplici così in caso se io volessi cambiare diciamo un po di decorazioni qui della stanza per la bebè mi basta semplicemente cambiare il colore delle pareti cambiare il colore degli oggetti e così via cose semplici semplici intanto lei è qui i suoi bisogni stanno benissimo ma io direi magari di correggere vediamo se riusciamo a correggere dei cattivi comportamenti anzi giochiamo un po con questi piccoli gattini che sono un amore ragazzi sono carinissimi carinissimi davvero gli adoro troppo questi gattini e comunque stavo pensando anche di caricare no ragazzi guardate questa scena è bellissima no che carina mia che va da suo figlio ok devo fare una foto fatta niente è solo troppo fissata con con mia e i suoi pargoletti comunque come stavo appunto dicendo caricherò tutta la famiglia con con i bebè eccetera in galleria ricordatevi di attivare il materiale personalizzato perché come vedete lei sta utilizzando una giacca che ho scaricato dei pantaloni delle scarpe ovviamente ho scaricato e comunque ho messo su di lei anche una skin quindi niente di particolare comunque siamo arrivati al secondo stadio diciamo dell'aspirazione mi mancava solo una cosa da correggere ovvero correggere i cattivi comportamenti che non sono riuscita a farlo con mia perché mia è troppo viziate quindi diciamo che è impossibile farlo con lei allora guarda riempiamo tutte le ciotole per animali vediamo se c'è da fare anche il bucato perché io fin quando non non sento nulla non arriva nulla qua si sta riempiando tra l'altro non so se avevo appeso qualcosa no ok non c'è nulla oh mio dio molto giocosa ok non fare casini boni ti prego non fare casini comunque per quanto riguarda la mod che utilizzavo ovvero quella della mc command center l'ho eliminata e sì ragazzi perché purtroppo non funzionava bene infatti mi bloccava un gioco intero ho abbassato inizialmente la grafica per farlo funzionare poi l'ho rialzata di nuovo ai livelli che avevo prima e infatti sta andando più che bene vedete mi funziona tranquillamente quindi diciamo che adesso sono soddisfatta del risultato in poche volere perché prima si bloccava interamente il gioco e mi dava fastidio guarda boni non so se c'è qualcos'altro da fare magari ti porta a fare una passeggiata con lucky ma sì perché no andiamo a fare una bella passeggiata con lucky attenzione animali e vai a fare una passeggiata facciamo una bella passeggiata breve così facciamo anche dei giochini vediamo un po' se possiamo giocare una pallina qui dentro no non è una pallina vediamo se riesco a prenderla questa pallina dalla la cosa dei giocattoli perfetto così possiamo andare direttamente a giocare andiamo lucky facciamo una bella passeggiatina se c'è che non va ripulito dalla cacca dell'animale bleh che schifo perché è così calda e molice ok che volta a stomaco ma ah ok pensavo stesse chattando con qualcun altro ragazzi una play è già partita? sì è già partita andiamo a farci una bella passeggiata sulla spiaggia anche perché non sappiamo quando quando partorita la nostra cara boni in frattempo michael sta qui a scrivere ancora i suoi bisogni vanno più che bene un po' a che livello è arrivato è arrivato al livello 2 perfetto manca poco per arrivare al livello 3 riceveremo sicuramente una promozione il bambino ancora nulla ragazzi adesso sai cosa ti dico allora sguizzagliamolo e giochiamo con lui si sta addestrando continua l'addestramento a riportare giochiamo un po' con lucky che lei lo stava addestrando l'ultima volta lucky perché non prendi la palla niente non vuole prendere la palla dai che vuoi prendere la palla bravissimo lucky forse ho parlato un po' troppo presto stress per l'addestramento questo cane sta mettendo alla prova la pazienza di boni no povero guardatelo com'è triste scusa non volevo che c'è ah forse deve andare in bagno allora chiedi di andare a fare i suoi bisogni odiamolo e proviamo amore e poi lo accarezziamo oh che carino che carino l'odoro troppo niente io li adoro e a fare un'altra passeggiata breve lucky è affamato puoi aiutarlo dandogli un dolcetto o riempiendo una ciotola di cibo oh mio dio sta povera boni che deve fare avanti e indietro dove è andato lucky ah è qui oh poverino guarda diamogli un dolcetto magari aspetta boni diamo un dolcetto vediamo un po' oh perfetto continuiamo la nostra passeggiata intanto vado a vedere un po' cosa sta facendo Michael ma blocco dello scrittore super delgato vorrebbe venire da te per passare del tempo insieme eh no mi dispiace non ne ho voglia ok allora stavo leggendo blocco dello scrittore raggiunto il tuo limite prendi una pausa rilassati e le energie creative torneranno a scorrere ma dai mancava poco per il livello 3 Michael e vabbè aspetteremo intanto potresti farti magari che so potresti andare in bagno e oddio potresti andare in bagno usa il bagno e poi magari ehm farti una doccia veloce andiamo un po' dove bonnie ah si sta andando dirigendo in spiaggia guardate che meraviglia la spiaggia bellissima questi gabbiani fanno un po' paura oh mio dio che succede bonnie ma sai che ti dico allora ritorniamo a casa anche perchè è stanca deve andare in bagno e quindi non non ce la fa più diciamo tanto Michael dov'è qui abiti asciutti ok sarebbe perfetto se venisse bonnie per fare delle ramandine sulle bevute sulla pozza mentre tu potresti preparare qualcosa da mangiare servi il pranzo potresti fare magari un tramezzino beh con il letto se è tomato ovvero BLT così per far trovare qualcosa di pronto alla tua mogliettina che dovete fare basta con la passeggiata breve basta con la passeggiata breve ok intanto fai una ramandina sulle bevute della pozza speriamo di farcela non capisco perchè ok vediamo lodiamola ah certo però il loda si può fare allora poi fai una bella ramandina ecco non si beve dalle pozze a terra vediamo un po' cosa ha fatto Michael ma hai cucinato? ah li ha messi lì infatti mi sembrava un po' strano così magari lei dopo che ha finito lo bacerà no ok fai una ramandina sui salti su banconi fai una ramandina sull'implorazione di cibo l'unica soluzione è questa ti prego no non prendo oh mio dio no non riesco a fermare basta mia ti prego basta fai una ramandina sul mangiare il cibo umano almeno uno di questi tre dovrebbe dovrebbe capirli comunque poi chiediamo che problema c'è ok basta parlare adesso devi occuparti di mia forse l'ha capito allora ragazzi io farò passare il tempo così vedremo direttamente Bonnie partorire perché ragazzi non so che ora che ora finirà il terzo trimestre quindi vedremo allora ci vediamo dopo finalmente alle 4.57 di domenica mattina è iniziato il travaglio Bonnie sta scoppiando di impazienza per incontrare il nuovo fagottino di gioia ok intanto svegliamo Michael vai qui e un secondo facciamo finire questo tramezzino a Bonnie e poi ci dirigiamo subito in ospedale perché oh mio dio sta per accadere non vedo l'ora non vedo l'ora di vedere il sesso del bambino a questo punto spero che sia una femminuccia davvero lo spero veramente Michael è sceso? potresti cambiarti d'abito magari abito cambiabiti quotidiani così ci diamo una mossa potremo partorire all'ospedale Bonnie sta iniziando il travaglio vuoi seguirla all'ospedale ma partecipiamo ragazzi finalmente ho l'espansione al lavoro e voglio vedere tutto e portiamo con noi Michael andiamo e ok ragazzi ed eccoci qui in ospedale c'è Michael che sta avendo proprio un panico pregeneritoriale e quindi direi di fare una foto perché adoro troppo questa inquadratura tipo si vede Bonnie preoccupatissima nel senso oh mio dio chissà cosa succederà Michael super in panico e qui il dottore che tipo sta dicendo addio i mariti ok speriamo che lo faccia in automatico se no fatti registrare al banco della reception speriamo che vada tutto tranquillamente perché una volta ho avuto un bug in cui la dottoressa non si è presentata e infatti la mia sim non partoriva facciamoci registrare al banco della reception Michael tu magari mi potresti venire qua grazie panico pregenitoriale lui è spaventatissimo c'è Michael che si è seduto lì in sala d'aspetto già immaginando il panico oh perfetto ragazzi stiamo andando Michael vieni pure tu smettila di guardare tv e cose varie vieni vai qui oh mio dio ragazzi vedremo nascere il bambino Bonnie che bello non vedo l'ora oddio aspettate che voglio fare una foto oh perfetto e vai andiamo un po' con il parto vediamo un po' cosa succederà vai Bonnie puoi farcela resisti oh mio dio sono felicissima non vedo l'ora di vedere ok Bonnie è preso che Roberta è medico tirocinante presso salute taglia e vaglia oh mio dio guardate Michael sta impazzendo sii ragazzi una femminuccia che bello sono contentissima allora mi piace un sacco per lei il nome Sofia quindi lascerò Sofia ok solo uno perfetto congratulazioni il medico ha preparato il certificato di nascita sii sono felicissima che bella aspettate che voglio vederla oh che carina una femminuccia che bello sono contentissima guardate quanto è bella guardate aspettate che io devo vedere ragazzi niente voglio fare una foto a questo momento perfetto tra l'altro tipo ha scelto un outfit perfetto in cui si vede tipo lei stanchissima senza trucco dopo un parto estremo mi piace un sacco adoro adoro tantissimo che bella ok mi sa che possiamo tornare tranquillamente a casa entrambi sono felicissimi e c'è lei che sta tipo che è tipo cosa cavolo aspettate ragazzi ma io non l'avevo mai vista questa camminata boh assurdo ci vediamo dopo allora ed eccoci qui la bambina è stata messa in camera da letto proprio qui vediamo un po' il certificato di nascita eccolo a questo punto lo metterei qui nella sua stanzetta oh mio dio sono contentissima veramente non mi aspettavo che nascesse una femminuccia ragazzi oh mio dio sono felicissima dove stai andando no che chiacchiera vieni qui un secondo vai qui che dobbiamo far passare la tua bebe d'età per vedere un po' da chi ha preso intanto mi sembra comunque tranquillissima ragazzi assurda questa cosa intanto la dondoliamo la nutriamo quindi la allattiamo e poi la culliamo cioè guardate ancora Bonnie è in abiti proprio spedalieri quindi tra l'altro la farò cambiare d'abito prima di farla passare d'età questo punto cambia abito e mettiti gli abiti quotidiani e ti metti questi Michael dov'è Michael tu devi assistere a tua figlia che che passa d'età subito tipo neanche il tempo di far qualcosa oh mio dio che bello sono felicissima ragazzi una bambina che bello potete capire in questo momento la mia felicità veramente sono estasiata all'idea di una femminuccia perché io appunto l'aspettavo non ho barato non ho fatto mangiare frutta al massimo le ho fatto comprare queste per piantarle in giardino ma non pensavo che uscisse una femminuccia sono felicissima davvero che la qui la sta dondolando un po' cerchiamo di aumentare magari il livello di genitorialità che qui è a livello 1 perfetto allora mi sa che possiamo farla passare di età facciamola passare direttamente di età per vedere un po' che bambino uscirà oh perfetto allora le metto il tratto indipendente così non abbiamo problematiche oh è bionda è bionda e tra l'altro è un taglio da maschiaccio e ha preso se non erro è tutta la mamma ragazzi è tutta la mamma è tutta la mamma assurdo assurda come cosa è tutta la mamma è identica oh mio dio guarda che sguardo prima voglio vedere Michael però scusatemi allora io perché cioè perché l'ho fatto questo bambino si doveva somigliare estremamente alla madre è Michael si sa la vita è questa è identica la fotocopia della madre ha capelli biondi e occhi verdi comunque adesso andremo nel cas a vederla meglio e comunque ho intenzione di caricare sia la casa che la famiglia in galleria ragazzi quindi potrete tranquillamente scaricarlo scusate ragazzi voglio fare una foto non mi interessa dei capelli ok perfetto ed eccola qui oh mio dio che bella adoro ora allegriamola andiamo un po' come sta lei ha proprio i bisogni al massimo tra l'altro e la adoro troppo bellissima adoro tantissimo che carina usita l'abilità di comunicazione lei già si vede che è una bambina un po' birbante ragazzi si vede adesso ragazzi direi di andare nel cas dopo che allora eccoci nel cas qui c'è bonnie qui c'è michael e qui c'è la bambinetta guardate che bella vediamo se ha preso gli occhi della mamma si ha preso il colorito degli occhi della mamma allora guardate che bella allora ragazzi la modifico e poi ci vediamo dopo che ragazzi ecco qui la piccolina faccio una foto pure perché è carissima è adorabile ecco qui sofia miller guardate un po' che carina le adoro le ho messo le lentigini e ho aggiunto le ciglia e una skin uguale a quella della mamma e del padre tanto per dare un po' di bellezza in più a questa bimba che già era bellissima che poi con questa skin è migliorata soltanto cioè guardate che carina dunque questi sono gli abiti quotidiani perché lei come la mamma sarà un amante dei gatti questo è l'abito formale e comunque ragazzi adoro il rosa guardate che carina guardate che carina carinissima questo è l'abito da notte con tutti i coniglietti qui comunque questi capelli ricci qui sono scaricati ho voluto metterli ricci anche perché sia la mamma che il papà ovvero Bonnie e Michael hanno il capello diciamo il tipo di capello riccio ma non ho voluto mettere quello da già presente nel gioco base ma uno che ho scaricato perché si adigeva un sacco al riccio che a Bonnie quindi le sta davvero benissimo ed ecco qui gli abiti da festa ovviamente sempre rose un po' più casual però guardate che carina io l'adoro troppo niente mi piace di più in versione così versione abiti quotidiani niente è troppo carina ragazzi troppo con questo makeover direi di terminare qui l'episodio e la serie di The Sims 4 cani e gatti abbiamo visto Bonnie trovare la sua strada ovvero trasferirsi a Brindleton Bay acquistare la propria clinica veterinaria avere un sacco di animaletti in casa tra cui Mia e Lucky Mia è riuscita a trovare diciamo il partner ideale per poter far nascere Belle e George due gattini carinissimi che tra l'altro Belle è la fotocopia di Mia e George invece è la fotocopia del padre solo che ha preso gli occhi della madre ovviamente alla fine comunque non vi ho fatto sapere per quanto riguarda il padre dei due gattini quindi ovviamente il compagno che Mia ha scelto per accoppiarsi l'ho affidato alla vicina del gado perché so che lei adotta tutti gli animali possibili e quindi infatti ho deciso di affidarlo a lei per il resto abbiamo visto anche Michael salire di livello la carriera per poter aiutare la cara Bonnie a realizzare il suo sogno si è dichiarato si sono sposati hanno coronato il loro sogno d'amore ed è nata dalla loro unione Sofia Miller che successivamente vedremo presto in una delle due challenge che sceglierete voi ovviamente quale portare sul canale perché ragazzi si sa Sofia a me sembra parecchio vispa vedete già il tratto indipendente penso che già dica tutto dica già tutto quindi non vi preoccupate non perderemo questa questa famiglia ripeto non perderemo soprattutto Sofia perché sarà la protagonista diciamo di una futura challenge qualunque essa sia ragazzi perché non mi va di abbandonare questa famiglia e la adoro troppo e niente io vi saluto e spero che per quei pochi che hanno guardato la serie quest'ultima vi sia piaciuta davvero perché ci ho messo tutta me stessa per poterla realizzare direi di concludere con un grande bacio questa è un'altra fine diciamo un'altra serie completata che si aggiunge alle varie serie all'interno del canale e sono contenta che quest'ultimo stia crescendo tantissimo tra l'altro a breve dovrebbe arrivare uno speciale 400 in cui vi parlerò di una novità che avverrà martedì sì ragazzi perché il mio canale è pieno di novità un bacio a tutti e spero che questa serie e questo episodio vi sia piaciuto se sì lasciate tanti like e commenti soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di Sofia che tra l'altro adoro che è bellissima ah e siete ancora in tempo per potermi fare delle domande all'hashtag askgrace che ovviamente vi comparirà qui sullo schermo siete liberissimi di postare questa domanda anche su Instagram l'importante è che mi lasciate l'hashtag che è sempre quello comunque vi saluto un bacio e ciao 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 Grazie a tutti.